ciao ragazzi sono l'ulico e solo oggi siamo finalmente tornati su clash of clans ho già accolto tutte le risorse perciò non ce l'ho più perchè oggi ho provato a fare questo video troviamo velocemente una partita voglio fare un attacco con voi che non l'ho mai fatto perchè vabbè clash of clans non ho iniziato da poco con voi e ho migliorato le mura a tutte le cose ok ecco il primo villaggio ma potrebbe già interessarmi fuori gli depositrisi sono troppo distanti e rischia di non riuscire a prenderli mentre ad esempio già gli estatori sono fuori quindi anzi siccome mi serve l'oro prendo questo e ci butti i pekka ok pekka buttati insieme piacere qualche arcieno e siccome mi ha giocato il cazzo di farci volire mettiamo il king raga king e abilitare il king ha arrivato a tesla ma non mi freghi zio ma le arcieri scatenano già il devasto le difese aeree forza il pekka butta giù lo stregone raga siamo a cavallo però il sul king ha fatto più minimo non penso sia derivato più basso però adesso ho buttato il pekka che lo fanno giù al king suo ma come va giù il king intanto raga il pekka pilastra ma c'è tutto il devasto in totale poi buttato il visto i guani completamente a caso perché il gioco minaccava il gioco ma solito confidiamo nei pekka perché è l'unica assieme nella scelta il municipio sta andando giù fai che vado giù il municipio è un paio di cazzo siamo tutti tra i guaritori e facciamo in modo che il pekka non vada giù cioè con tre guaritori in teoria non dovrebbe andare giù per questi libretini qua però vedo già che sta prendendo molto di vita almeno da dire che li vede tutto il desider 100% mi sa che non lo faccio ma è possibile farlo qua però magari sta lontano dalle difese quindi si sta correndo bene ok sono allontanata abbastanza dall'arcieri e guaitrici fate anche una bella cosa perchè così non mi vuole pekka spacca quel muro dai che ce la fai non uso le risorse del clan perchè quelli del clan mi hanno costruonato 4 giganti al lungo praticamente vai tutti lì vai pekka scatena il devasto il totale vai e fai giù quel mortaio che mi ha già rotto il cazzo ok il mortaio direi che va bello che ci metto ok il pekka dove si dirige dove si dirige vediamo un po' sono molto curioso ah verso l'estattore verso il deposito delle sire è bella così e ce lo portiamo a casa dai un bel 71% 73% forse mi fa giù anche il municipio si perchè l'avano già danneggiato un botte d'arcieri spettacolo raga due stelle va più che bene adesso col pekka si fa giù il castello del clan ma anche l'oro rimanente dai dimmi che lo fai siiii dai ma allora ah giusto il deposito d'oro ah è finita la prima partita raga 160.438 di resire e 54.256 di oro quindi ci portiamo questa roba in saccoccia allora questo è stato il mio primo attacco in diretta su flash of flames che volte potete portarci pure una live qui magari seguo anche i vostri consigli quando avevo tutti e quattro i costruttori liberi provavo a portare una live così mi dite voi cosa fare cosa non fare come spendere tutta la roba lì che c'ho e niente io per questo video direi che è tutto se il video vi è piaciuto come solito lasciate un commento mi piace iscrivetevi al mio canale se siete nuovi se non siete nuovi andate a stalkerare delle solite cose che trovate in descrizione noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti